Un nuovo CD di Pape Gurioli dedicato alle donne, in uscita in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma l'Uledì 25 novembre. Cinto, frammenti di piani, il titolo della compilation caratterizzata da 15 brani inediti, un lavoro che si intreccia con la ricerca di Silva Gurioli, la sorella di Pape, sulla vita del padre, racchiusa in un libro. Cinto, il padre di Pape Gurioli, era anche lui pianista e scomparve quando i figli erano ancora giovani. 15 brani prodotti dall'edizione musicale Faentini e Galletti Boston, intitolati e ispirati alle donne della vita di Pape Gurioli, la madre, la figlia, la moglie, l'amante, la sorella e la gatta. Oggi ho 60 anni, compio 60 anni, dopo 42 anni di carriera ho vissuto tutta la vita gestito, manipolato nel bene e nel mare da donne. Per cui questo è stato il motivo, la spinta. Più questa idea di mia sorella di fare questo libro sul nostro padre, mi ha dato delle emozioni. Per cui queste emozioni in qualche modo le ho ritrasmesse attraverso quest'idea un po' particolare di un piano acustico e di un piano Fender Rots abbastanza inusuale e non tanto usata dagli altri. Dedico veramente a queste donne questo disco perché in qualche modo se lo meritano, sono state veramente importanti per la mia vita. Una vita, l'ha ricordato lei, dove ha perso suo padre che aveva pochissimi anni, una vita quindi caratterizzata da donna, mi pari di capire. Sì, esatto. Io mio padre purtroppo non l'ho conosciuto, mi ricordo qualche immagine, non mi ricordo né la voce né come suonava, perché mio padre suonava, per cui ho vissuto con mia madre, mia sorella e tutte, diciamo che sono stato curato in generale proprio di più dalle donne. Che brani sono? Sono brani di mia composizione a parte due che hanno, come dicevo, una caratteristica impressionista, per cui sono sprazzi di suono, sono sprazzi di suono che assomiglia all'impressionismo francese e dove nella musica ha avuto la sua massima espressione nelle scale esatonali di Debussy.